Ma la Re fa Mi Re, mi fa Mi Mi Re Re Mi Re, mi Re Re Mi fa Mi Re, Re Re Mi Re Re, mi Re Mi fa Mi Re Re La 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 Re Fa Mi La 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 Re Fa Mi 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 Fa Mi 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 Re Mi Re Mi 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 fa, mi, re, re, mi, re, re, mi, re, re, mi, fa, mi, re, re. La, 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 la RERE MI RERE MI RERE MI FONI RERE RERE No, non è scritto RERE 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 MI MI RERE MI 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 RERE MI RERE MI FONI RERE MI 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 RERE MI 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 Grazie.